Tantanotte è tutto tranquillo, non è successo niente. Tutto tranquillo. Fosse vero che se fosse acquietato sto fantasmo una volta per sempre. Lo sai che ti dico, io domani riparlo con Don Cirillo. Ma non sarebbe meglio aspettare ancora un poco? Che fretta c'è? Che fretta c'è, che fretta c'è, te lo devo pure spiegare. Poi che cosa dobbiamo aspettare? Tutto è tranquillo. Nino per esempio, io avevo sempre pensato che fosse una storia sua, inventata di questo fatto, che ce l'avesse con te. No. Ci volevo comprare il motoscudo. Me l'ha rifiutato, capisci? Non è approfittato, mi ha dato una lezione di lealtà. Nino, ma che c'è? Vogliate scherzare? Nino, ma che fai? Nino! Basta, adesso basta. Ehi! Basta, Nino! Basta, eh, basta. Questo è l'ultimo. Nino, ma che vuoi dare? Per piacere, ti prego. Perché mi fatti così? Nino! Basta, ma che t'ho fatto? Nino! Ma che vuoi? Si può sapere che vuoi da me? Mi vuoi vedere nuda? Sei questo che vuoi da me. Guardate, che io mi spoglio. E tutto mi levo. Raccogli la carta e lasciami studiare. Stefano! Ciao! Ciao! Che fa? Aspetti mio fratello? Sì. Che bella bicicletta! È tua? Sì. Mi ci insegni? Ma questa è da uomo. E allora? Reggimela. Che paura! Ma che devo fare? Pedalare? Sì, ma piano, eh. Piano. Così bravo! Non guardare la ruota davanti. No, no. Ori, sto cadendo. Rita, Rita. Oddio. A te. Che difficile. Ma che fa? Niente. Ci sta insegnando ad andare in bicicletta. Ma se me lo insegnò lei a me quando avevo già anni. Ciao! Ma vi risponde. Faccio un giretto. Ma se può essere, ci sono. Sì, dillo pure, senza complimenti. Guarda, ti portai la pistola che ti avevo promesso. Ti piace? Carica, eh. Eh, che ne è saccio. Senti, io la pistola te la portai, ma se quella poi non ci sta. No, ci sta, ci sta. E quando, quando? Anche domani. Tanto papà è andato a Palermo. Antonio se ne esce. E un picciriddu. No, Enzino non compro. No, Enzino non compro.